buona serata a tutti cari amici fan ebbene ho letto un risultato a dir poco spaventoso sì perché nel torneo di viareggio femminile coppa carneval 2020 edizione numero 2 del torneo femminile la roma ha niente po po di meno che strabattuto l'emboli per 7 a 1 pensate un po redi di boldrini landa autorete tarantino landa vidano manca roma che quindi vola in testa al girone incredibile ribadisco roma batte empoli 7 a 1 mamma mia